Ranco è un paesino che sorge sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, tra i comuni di Ispra e di Angera. Il comune si sviluppa tra il Colle di San Quirico e il promontorio meridionale del Parco del Golfo della Quassa. Il nome dovrebbe derivare dal verbo Roncar o Rancar, che significa di sboscare e dal punto di vista storico ha sempre seguito le vicende della vicina Angera. Ranco è una località molto rinomata sia per la bellezza della sua natura sia per altre particolarità tipiche di questa zona, ed è il posto ideale dove poter trascorrere qualche giorno in tranquillità, ammirando lo splendido panorama del Lago Maggiore. La pesca è sicuramente un'attività molto diffusa nel paese, ed i suoi frutti sono facilmente degustabili nei diversi ristoranti del borgo. Da visitare nei dintorni la splendida Rocca di Angera, con all'interno il particolarissimo museo della Bambola e del Giocattolo, che merita assolutamente di essere visto, le isole Borromei e la splendida Stresa. Questi sono solo tre dei posti che si possono visitare in quella zona. Metto i link di tutti e tre i luoghi alla fine di questo video. Se non l'avete ancora fatto, invito ad iscrivervi al canale ed attivare le notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblicheremo. A presto con un altro video. A presto con un altro video. A presto.